Vediamo come attivare dal sito www.confcommercioalcamo.it di cui noi siamo convenzionati per lo svolgimento dei corsi online. Sono dei corsi per quanto riguarda gli alimentaristi, quindi un corso obbligatorio può essere di 12 ore o di 6 ore. Anche i corsi di sicurezza sul lavoro, alcuni possono essere svolti online. Vediamo nella fattispecie il corso di alimentarista di 12 ore. Questo corso è obbligatorio per quanto riguarda la figura di colui che manipola i cibi e quindi svolge un ruolo di supporto all'industria alimentare. È molto importante capire che si può fare tutto online, tutto da casa. Quindi come dobbiamo fare? Per prima cosa clicchiamo su FAD che significa formazione a distanza e quindi andiamo, se già non abbiamo un account, dobbiamo registrare. Quindi registrati. Dopo che vi registrate andate a inserire una username che sarebbe un vostro nominativo per accedere al corso. Potete scegliere qualsiasi nominativo. Meglio utilizzare il proprio nome e cognome, la vostra email. Inserire dati generici, quindi nome e cognome e scegliere una password. Naturalmente è meglio che sia con numeri e simboli per essere più protetta. È molto importante sul referente scrivere Mauro Ferrante oppure Castellammare. Scrivendo così io, sono il vostro tutor, vi seguirò per quanto riguarda la formazione a distanza del corso alimentarista. Grazie.